Ha iniziato a giocare a soli 4 anni affiancato dallo zio e oggi ventenne vanta un curriculum da fare invidia. Tommaso Gusmeroli, prima campione juniore, sei oggi sulla cresta dell'onda con la bocciofila alto verbano, si racconta e svela il lato più bello dello sport delle bocce, quello fatto di impegno, di costanza, ma anche di amicizie e di crescita, professionale e personale. Perché secondo te c'è questo distacco da parte dei giovani? Secondo me perché seguono tutti, vanno tutti in gruppo, non riescono a distinguersi. Tommaso guarda il futuro con tanta voglia di crescere e invita i suoi coetanei a lasciarsi affascinare da questo sport. Dico ai giovani di unire a giocare alle bocce non solo per giocare alle bocce, ma anche per fare amicizia con altri. Perché io ad esempio ho degli amici adesso di Pesaro Urbino che ho conosciuto solo con le bocce. Tra l'altro questo aspetto della socialità è un altro aspetto molto importante, noi ne parliamo spesso, vero Maurizio? Perché ovviamente il campo di bocce ti porta a condividere dei tempi e quindi insomma a conoscersi, a chiacchierare, a stringere amicizie. Esatto, poi si è nello stesso campo per delle ore, quindi anche da un punto di vista sociale ha una sua bella funzione. E poi lei non lo sa perché non gioca a bocce, ma noi sappiamo che è una scuola di vita, una partita di bocce. Ci sono le strategie, le tue debolezze, le debolezze dell'avversario, insomma è una scuola di vita.